Tutti parlano del cambiamento che ha fatto Ronnie Coleman dal Mistro Olimpia del 97 al Mistro Olimpia del 98 ma quasi nessuno parla del cambiamento che ha fatto Ronnie Coleman dal Mistro Olimpia del 97 sino alla Night of Champions del 98 in cui Ronnie Coleman sconvolse letteralmente tutti Ronnie Coleman partecipò a quella gara in cui batte Kevin Lebron che si apprezzò al secondo posto e Mike Matarazzo che si apprezzò al terzo posto in quella gara c'erano anche Marcus Rull, Gunther Schlierkamp, Jay Cutler che era ancora all'inizio e Brian Buchanan Ronnie Coleman fece questa gara all'incirca verso maggio-giugno del 98 quindi alcuni mesi prima del Mistro Olimpia del 98 e letteralmente in un arco di tempo di 9 mesi fece un cambiamento stratosferico prima della Night of Champions fece altre due gare che sono il Finland Grand Prix e il German Grand Prix che purtroppo non ho trovato foto in rete, è praticamente impossibile trovare le foto di quelle due gare quindi ho deciso di fare un confronto tra il Mistro Olimpia del 97 e la Night of Champions del 98 che è una delle migliori versioni di Ronnie Coleman, soprattutto in confronto a quella del 97 prima posa, front double bicep, la prima cosa che salta all'occhio è la condizione la condizione alla Night of Champions era letteralmente superiore rispetto a quella del 97 infatti ricordiamo che Ronnie Coleman si piazzò a Mistro Olimpia del 97 al nono posto con una condizione che era abbastanza scarsa invece alla Night of Champions era completamente all'opposto la condizione stratosferica, un incremento notevole di massa muscolare non so all'incirca quanti chili abbia preso in questo arco di tempo però si può notare che le gambe sono praticamente quasi il doppio per lo spessore muscolare e la separazione delle gambe è nettamente migliore l'unica pecca che trovano al 98 è la ginecomastia al capezzolo sinistro che si nota soprattutto al Mistro Olimpia del 98 qui al 97 non credo che si veda molto però alla Night of Champions si vede moltissimo la ginecomastia per quanto riguarda le braccia credo che siano praticamente le stesse non ci sono grosse differenze però la cosa che ha salto più all'occhio sono le gambe per il fatto che ho detto prima la separazione muscolare e lo spessore muscolare che è completamente l'opposto di quello del 97 e la condizione, si nota soprattutto la condizione nel Midsection del 97 molto molto appannato invece del 97 ottima separazione gli addominali con chiaro segno di un'ottima condizione front leg spread, anche qui la condizione fa veramente la differenza guardate il Midsection del 97 confrontatelo col 98 completamente diverso condizione è nettamente migliore come ho detto anche prima le gambe sono nettamente migliore per la spessore muscolare e per la separazione muscolare qui si nota ancora di più la ginecomastia che ha la Night of Champions è un po' più accentuata però mi piace molto come contrai il pettorale al 98 invece al 97 fa un po' di fatica a contrarlo dato che la condizione era molto indietro i dorsali credo che siano leggermente un po' più grandi del 98 quindi vedete la differenza che fa la condizione che porta un'altra tengara fa veramente la differenza side chest purtroppo non ho trovato una foto in cui si vedono le gambe di Roni Colma al 97 ho trovato solo questa in rete purtroppo però si può notare una grossa differenza sia per quanto riguarda il deltoide sia per quanto riguarda il pettorale la separazione nel deltoide è più accentuata nel 98 nel caso del fatto che la condizione è nettamente migliore anche il pettorale mi sembra che sia leggermente proprio rotondo con una migliore rotondità muscolare e con delle strutture più accentuate purtroppo le gambe non posso valutare in quanto non ho foto del 97 con le gambe intere però anche questa è una delle migliori pose per Roni Colman che mette in difficoltà molte attate ricordiamo che nella categoria dei migliori side chest della storia avevo messo Roni Colman come secondo migliore side chest della storia eccezionale e la condizione anche in questa posa fa molte differenze purtroppo non posso valutare le gambe side tricep anche qui purtroppo non posso valutare le gambe una cosa però che mi colpisce del 97 che mi colpisce in generale di Roni Colman è che lui ha sempre avuto delle strutture pazzesche sul tricipite anche se la condizione era molto indietro come per esempio nel 97 e nel 2001 in cui la condizione era molto indietro quindi una cosa che mi colpisce veramente tanto di Roni Colman qui le differenze sono ripeto la condizione guardate la separazione nel deltoide quanto più accentuata nel 98 e anche il midsection con il torbocedenza infatti nel 97 è molto appannato molta acqua in corpo questa non è la migliore delle pose per Roni Colman perché non ha mai avuto un tricipite con la tipica forma del zacoli cavallo però si è sempre ben difeso in questa posa con delle ottime stirature nel tricipite e un ottimo controllo dello stomaco e delle ottime rotunte muscolari nel deltoide e nel pettorale qui ho un'altra foto del 9th of champions che l'angolo è migliore guardate la differenza ripeto nella condizione la separazione nelle gambe è di un altro livello la separazione tra i codici per il femorale è ottima anche la separazione tra i glutei e femorale con dei tagli profondissimi ci può infilare quasi una matita in quei tagli back double bicep e se devo essere onesto qui lo vedo superiore nel 97 credo che questa sia una foto delle finali non ho la certezza in quanto credo che alle finali sia arrivato un po' più tirato rispetto al pre-judging ma non ho la certezza qui ripeto lo vedo in vantaggio nel 97 perché i dettagli muscolari sono leggermente migliori e i glutei sono migliori nel 97 con delle maggiori stirature infatti mi fa strano vedere questa posa un po' in vantaggio nel 97 dato che la condizione era nettamente migliore nel 98 forse cosa ha fatto che l'angolo nel 98 non è che sia dei migliori è molto preso dal basso quindi si tolgono molti dettagli però nel 98 credo che sia leggermente un po' più spesso per quanto riguarda lo spessore muscolare nella schiena anche se non posso dirlo con certezza con certezza che l'angolo non è del migliore però con quest'angolo io lo do al 97 perché ha dei migliori dettagli muscolari la separazione muscolare è più accentuata e i glutei sono migliori nel 97 rear let's bed la miglior rear let's bed della storia Ronnie Coleman anche se le foto non sono il massimo sono purtroppo due screenshot perché non esistono foto del rear let's bed di Ronnie Coleman del Mr. Limpia del 97 della Night of Champions del 98 purtroppo non esistono foto però se avvicinato un po' l'occhio si può notare che al 98 è leggermente un po' più largo e qui la separazione muscolare credo che sia migliore tra pezzi leggermente proprio grossi come detto prima la spessore muscolare è leggermente più accentuata nel 98 anche se non posso dirlo con certezza perché sia preso di lato e la foto non è che sia il massimo most muscular purtroppo non ho una foto dell'absentize per nessuna delle due annate non ho trovato foto in rete dell'absentize nella most muscular come ho detto prima si nota veramente si nota che la condizione fa la differenza la delle stirature nel pettorario di Ronnie Coleman nel 98 confrontate con quelle del 97 completamente diverse la condizione nel 98 era notevolmente superiore rispetto a quelle del 97 sia per quanto riguarda la BF la body fat sia per quanto riguarda l'acqua in corpo il 97 aveva molta acqua in corpo credo che sia questo che l'abbia portato al nono posto al mistero di 97 perché era Ronnie Coleman se avesse avuto una condizione migliore nel 97 credo che qualche posizionamento in più nella classifica finale avrebbe potuto farlo poi sappiamo tutti che circa 3-4 mesi dopo la night of champions del 98 ha vinto il suo primo misto olympia e lì si ha veramente sconvolto tutti potendo flex wheeler però va ricordata anche la night of champions del 1998 perché anche in quella gara ha praticamente sconvolto quasi tutti ha battuto Kevin Levroni e ha fatto un cambiamento pazzesco nel giro di pochi mesi grazie all'aiuto di Chad Nichols che ha cominciato a seguirlo dal 97 in poi dal 97 però Ronnie Coleman è cambiato tutto grazie all'aiuto di Chad Nichols che l'ha portato nella dritta via un po' come ha fatto quest'anno con Rami Chad Nichols uno dei migliori preparatori della storia che ha aiutato molti atleti a diventare dei campioni quindi fatemi sapere cosa hanno impassato del cambiamento che ha fatto Ronnie Coleman in così poco tempo mettete like il video se non avete fatto fatemi sapere chi secondo voi vincerà il California State Championship che si terrà tra qualche giorno noi ci vediamo al prossimo video hello guys ciao